Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPP Lilve, c'è un chilometro di coda per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Un chilometro di coda per lavori anche tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Attenzione al personale sulla strada tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Val d'Arno in direzione Livorno e tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra San Casciano Nord e Firenze in Pruneta. Coda per incidente a Firenze in Pruneta sempre verso Firenze. Sulla statale 223 di Faganico corsia chiusa per lavori tra Ponte Macereto e il Bivo per Bagnana in direzione statale 715 e statale 73. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!